La tematica legata alla cosiddetta proteggita programmatica, è chiaro che però per fare questo devi trovare soluzioni e l'eventualità di poter trovare un partner non è un'eventualità che si può risolvere nel breve tempo. Un soggetto come GSL mi immagina un posto privato più che pubblico qua ormai? No, non si esclude nulla, perché ovviamente le cose sono concatenate, si può percorrere di sicuro, lavoreremo per percorrere l'ipotesi di un soggetto privato, ma non c'è ovviamente certezza di interesse da parte dei privati a un'attività di questo genere, sono cose queste particolarmente complicate in cui non è scontata la risposta, ovviamente. La richiesta da anni GSL potrebbe esserci ripercussioni? Da quello che ho potuto verificare io e dalla documentazione che ha l'azienda è una richiesta che sembra infondata. Tranquillo? Quando si fa questo mestiere tranquilli non si è mai, non si deve essere tranquilli, perché se si è tranquilli vuol dire che si perde l'attenzione e l'attenzione ai problemi. Però non vedo elementi di particolare preoccupazione se non il fisiologico contenzioso di quando si rompono due rapporti.